Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. David Box e la loro figlia Amanda, che ha appena due anni. Ronda ha 38 anni e lavora come assistente presso una compagnia di impianti di condizionamento e riscaldamento. Per la donna la famiglia è molto importante, non le interessano più di tanto le cose materiali e belle. Infatti si concentra al 100% su sua figlia, Amanda. È piccolina e Ronda ama tantissimo leggerle le favole. Guarda i cartoni animati con lei, Ronda è sempre presente. È una madre amorevole, la descrivono addirittura come una mamma da manuale. Ronda è sposata da tre anni con David Box, un chitarrista e un cantante, che ha una band rock. C'è Bobby Sisco alla batteria, Chris Williams alla chitarra solista e Bob Teller al basso. Nick Robinson è il cugino di secondo grado di David ed è il più grande fan della sua band. Si chiama Ace Is High. Di conseguenza va spesso a trovarli quando fanno le prove. Otto anni prima di sposarsi, Ronda rimane affascinata da questo ragazzo di nome David Box. Al tempo la donna lavora in una gelateria, mentre David guida il camion delle consegne. I due quindi iniziano a parlare. David chiede a Ronda quale sia il suo genere musicale preferito. E Ronda, senza neanche pensarci troppo, risponde Rock! Perché? David a questo punto aggiunge Io suono in una rock band. Ci chiamiamo Ace Is High. Se sei interessata, perché non vieni a sentirci domani sera al Mary Melody? Ti metto in lista. Ronda non se lo fa ripetere due volte. Prima di tutto perché ama davvero tanto il rock. Ma soprattutto perché rimane piacevolmente stupita da David, la fascinante chitarrista e cantante della band. La sorella di Ronda, Kim, decide di accompagnarla al Mary Melody, quindi al locale, per non farla andare da sola. Appena arriva al locale, Ronda va subito sotto al palco a ballare. David la nota, le sorride, lei continua a ballare e gli sorride. Insomma, i due si piacciono ed è evidente. Durante quella serata è presente anche Nick Robinson, il cugino di secondo grado di David che fa foto e video alla band. Appena David scende dal palco, si precipita immediatamente da Ronda. Le chiede se le è piaciuto il live e iniziano a parlare del più e del meno. Passano la serata insieme. A loro si unisce anche Kim. Quest'ultima però non è così convinta, crede che David nasconda qualcosa. E in effetti in un certo senso è così. David ha un figlio nato da una precedente relazione e a mala pena riesce a pagare il mantenimento. Non ha per di più lavoro stabile, per un po' continua a fare consegne, poi però viene licenziato. A questo punto la sua unica entrata sono i guadagni della sua band. Che, ahimè, non sono molti. Ogni volta che gli Ace is High suonano in un locale, vengono pagati. Ma quella cifra divisa per tutti i membri del gruppo, in effetti diventa davvero esigua. Nonostante ciò, Ronda e David si sposano nel 1998 e, poco meno di due anni dopo, nasce la loro bambina, Amanda. Ben presto arriva il 2000 e Ronda trova lavoro alla Hamilton Home Products, che si trova a Canal Winchester, che è per l'appunto una compagnia di impianti di riscaldamento e condizionamento. È obbligata a tornare a lavoro perché non hanno molti soldi. David continua a non avere un lavoro e infatti la sua vita dopo il matrimonio cambia ben poco. La musica e la sua band occupano sempre il primo posto. Di rado fa qualche lavoretto, ma ha dei problemi alla schiena. Ronda però è stufa di questa situazione. Sa che suo marito ama la musica e ama la sua band, ma non ce la fa proprio più. Sembra che David non voglia impegnarsi per trovare un impiego che non lo porti ad affaticare la schiena. Al contrario, sta tutto il giorno a suonare la chitarra e lo fa a casa. All'inizio del fidanzamento e del matrimonio, a Ronda chiaramente questa situazione non dà fastidio. Anzi, spesso assiste alle prove del gruppo di suo marito. Ma con l'arrivo di Amanda, David non può più permettersi di suonare quando gli pare. Fa un baccano incredibile che spaventa Amanda ogni volta che suona in casa. Mentre di sera è sempre fuori a fare concerti con la sua rock band, col fine di guadagnare qualche soldo. Amanda e Ronda quindi si ritrovano a passare le serate da sole, a leggere le favole e a guardare i cartoni animati. La bambina però sente la mancanza di suo padre, quindi chiede in continuazione a Ronda, Dov'è papà? Ronda risponde sempre, papà è fuori a lavorare. Sta suonando la chitarra con la sua band. Probabilmente lo vedremo domani. David, in effetti, è sempre fuori casa. Inoltre girano delle voci sulla sua infedeltà. A quanto pare David ama essere al centro dell'attenzione quando suona e canta. E allo stesso modo adora le ragazze che si vanno a scatenare sotto il palco. Sono tutte giovani, carine e David fa il cascamorto un po' con tutte. Inoltre al posto di suonare, finire il concerto e tornare a casa, David passa gran parte della notte fuori, rientrando sempre ubriaco. Ronda ormai non sa più che fare. Chiede in continuazione al marito di evitare di bere troppo, di rientrare prima. Non lo vuole certo allontanare dalla musica, ma dall'alcol e dalle sue brutte abitudini. David promette sempre di tornare a casa prima, di bere di meno, cosa che puntualmente non avviene mai. E Ronda a questo punto medita il divorzio. David è solito rientrare a casa ubriaco anche alle 4 e mezza di mattina. Favaccano sveglia Amanda e sveglia pure sua moglie, che a differenza sua si deve svegliare presto la mattina per andare a lavorare. David, oltre alla voglia di divertirsi e di far festa, ha anche un gran bel problema, e ve l'ho già nominato. È indietro con i pagamenti degli alimenti al primo figlio, e a questo punto rischia di andare in prigione se non paga. Ronda è confusa, non sa che fare, così va a trovare sua sorella Kim, che è sempre pronta ad ascoltarla e a darle un consiglio. Ronda dice chiaramente a Kim che il suo matrimonio non va bene e lei proprio non ce la fa più. David non è mai a casa, non ha un lavoro fisso stabile, e sta sempre con i suoi amici della band a bere birra e a suonare. Ronda passa la serata a casa di sua sorella, e oltre a parlare del suo matrimonio, di David e dei suoi problemi, le dice che deve fare presto una rimpatriata con dei suoi vecchi compagni di classe. Sua sorella dunque le regala un anello per fare un paio di orecchini. Arriva l'11 aprile del 2002, quando David viene effettivamente arrestato per non aver pagato gli alimenti al figlio nato dalla relazione precedente. Il 29 aprile del 2002, Ronda non si presenta a lavoro, e tutti i suoi colleghi sono molto preoccupati, perché non è da lei non presentarsi a lavoro senza avvisare. È una donna precisa, puntuale. Forse è successo qualcosa? Forse si è sentita male? Così un suo collega di nome Gary decide di dirigersi verso casa sua, ripercorre il tragitto che Ronda solitamente fa per tornare a casa da lavoro. Così Gary arriva a casa di Ronda, e nota che la sua macchina in realtà è parcheggiata nel vialetto. Prova dunque a bussare alla porta d'entrata, ma non ottiene risposta. Prova a chiamarla, prova a sbirciare da qualche finestra per vedere se nota qualche movimento, ma pare che Ronda non sia proprio in casa. Dove si è andata con la macchina ancora nel vialetto, però resta un mistero. Gary, dopo essere stato circa dieci minuti davanti alla casa della sua collega, decide di tornare in ufficio, quando, di colpo, nota che le tene della sala si spostano. E appare Amanda, la figlia di Ronda, piange, sembra terrorizzata e per di più ha le manine tutte sporche di sangue. Amanda è piccolina, ha circa due anni e mezzo. Quindi Gary cerca di spiegarle più volte come aprirgli la porta d'entrata. Quella bimba prova in tutti i modi ad aprire quella porta. Ci mette circa dieci minuti per trovare le chiavi, infilarle nella toppa e aprire. Appena Gary entra in casa, Amanda punta il dittino verso la cucina, dicendo Mamma sta male. Gary si precipita in cucina e trova Ronda a faccia in giù in una pozza di sangue. L'uomo, terrorizzato, prende Amanda, esce di casa e chiama la polizia. Il detective Chris Forshey arriva sul luogo del delitto ed esamina il corpo di Ronda. È stata accoltellata più volte, in tutto ha ricevuto 19 fendenti alla testa, al volto, al collo e alle spalle. I detective rilevano delle impronte di scarpe insanguinate che dalla cucina vanno a soggiorno. I cassetti dei mobili della camera da letto sono tutti aperti, sono capovolti. La borsa di Ronda è totalmente vuota e il suo contenuto è spasso sul bancone della cucina. I detective però non possono sapere se l'assassino da quella borsa ha rubato qualcosa prima di andarsene. È comunque molto probabile, visto che l'ha svuotata. La presunta ora del decesso è compresa tra le 18.45 e le 21.45. Non ci sono segni di affrazione, la porta, dunque, è stata aperta o dall'assassino che aveva le chiavi o dalla vittima che conosceva l'assassino. Quando giunge anche il medico legale si rende conto che l'arma del delitto è proprio lì, sotto il corpo di Ronda. È un coltello da cucina ammacchiato di sangue. Quando Kim, la sorella di Ronda, prende la notizia rimane devastata, non riesce a crederci. E quando i detective le chiedono chi avrebbe potuto colpire Ronda, l'unica persona che le viene in mente è suo marito, David, che però è in prigione. I detective dunque fanno uscire David di prigione per capire se manca qualcosa in casa, ma soprattutto perché deve stare vicino a sua figlia. La piccola Amanda potrebbe essere l'unica testimone di quell'efferato delitto, ma gli investigatori temono che dopo il trauma, la piccola non sia in grado di riferire ciò che ha visto. Amanda ha assistito ad una lite che è culminata nell'accoltellamento della madre con 19 fendenti e poi ha trascorso la notte da sola col suo cadavere sul pavimento della cucina. Come ha fatto una bambina di due anni a resistere per una notte intera mentre sua madre giaceva morta sul pavimento? Non voglio neanche immaginarlo. Più tardi quel giorno la vanno a prendere gli assistenti sociali e provano così a farle qualche domanda. È così che Amanda dice, lo zio Nick ha fatto del male alla mamma. Lo zio Nick ha 30 anni ed è il cugino di secondo grado di David, il super fan della sua band. Gli investigatori dunque iniziano a indagare sul legame che può avere la piccola Amanda con un uomo di nome Nick. E in effetti risalgono a Nick Robinson, cugino di David. David conferma che il suo cugino Nick faceva spesso visita a Ronda mentre lui era in prigione. Ma non solo, in realtà Nick era davvero di famiglia. Ogni volta che a David serviva aiuto era sempre presente. Lo aiutava ad esempio a tagliare degli alberi, a riparare l'automobile o altri elettrodomestici. C'è un fatto però. Ronda poco tempo prima aveva confidato a sua sorella Kim che in effetti temeva un po' Nick. Non si sentiva a suo agio. In quanto aveva avuto modo di vedere i suoi due lati caratteriali. Da sobrio Nick è molto gentile, è affettuoso, ha un cuore molto grande. Ma da ubriaco Nick perde il controllo. Mentre David è in carcere, Nick fa delle avance alquanto spinte a Ronda. Che ovviamente si tira indietro immediatamente. Nick lavorava come addetto alla manutenzione di un complesso residenziale. Ma si è licenziato proprio il giorno dopo l'omicidio di Ronda. Ossia lunedì 29 aprile. Una domanda sorge spontanea. Perché licenziarsi in quel giorno in particolare? È una casualità oppure no? Inoltre proprio la mattina del 29 aprile i detective lo fermano mentre sta raggiungendo casa di Ronda. Ha sentito del delitto ed è preoccupato nonostante abbia i postumi di una sbronza tremenda. I detective dunque fermano e arrestano Nick Robinson lo stesso giorno del ritrovamento del corpo di Ronda. L'uomo quindi viene portato in centrale per un interrogatorio. E il detective gli chiede semplicemente di ripercorrere i suoi spostamenti del giorno precedente. Ossia di domenica 28 aprile 2002. Che è in effetti il giorno in cui è avvenuto l'omicidio di Ronda. Nick racconta che quella domenica mattina tra le 9 e le 9 e mezza è andato ad una partita di golf al Willow Run con un suo amico. Questa partita era sponsorizzata da un bar, ossia il Mary Melody. Entrambi hanno iniziato a bere birra ancora prima di arrivare sul campo da golf al Willow Run. Una volta giunti sul campo hanno iniziato a bere liquori di ogni tipo. E sono andati avanti a bere per tutta la mattinata. Al termine della mattinata, quindi verso l'una, si sono diretti al Mary Melody per mangiare una bistecca. Una persona normale con tutto quell'alcol in corpo probabilmente sarebbe svenuta sul campo da golf. Nick invece sostiene che si sentiva solo un po' brillino, non ubriaco. A questo punto Nick e il suo amico passano a cose ben più pesanti. Quindi iniziano ad assumere pillole, polverine e altre sostanze. Nick col suo amico lascia il locale verso le 22. Ma è in uno stato pietoso. Sa che se torna a casa ridotto così, sua moglie si arrabbierà da morire. Di conseguenza decide di fermarsi in un altro bar. Il Fairview Inn a Lancaster. Da quel momento Nick non ricorda più nulla. Tabula rasa. Non sa che cosa ha fatto dopo. I detective su questo punto lo torchiano per 10 ore. Gli chiedono in continuazione cosa sia successo dopo. E lui risponde sempre nello stesso modo. Non me lo ricordo. Dopo 10 ore di interrogatorio i detective dunque gli dicono. Quindi è possibile che tu sia andata a casa di Ronda per poi ucciderla? Nick a questo punto dopo 10 ore è distrutto. Non capisce più niente. Quindi alza lo sguardo e dice. Beh, io non me lo ricordo ma è possibile. I detective di Patascala non danno molto peso alla memoria di Nick. Visto che hanno già una prova fondamentale. Ossia la sua confessione. Inoltre nel bagagliaio del SUV di Nick ci sono dei cartoni. E proprio su quei cartoni ci sono delle macchie di sangue. I detective dunque prelevano quella parte di cartone e lo inviano alla scientifica. Per farli confrontare con quello di Ronda presente sulla scena del crimine. Dopo l'interrogatorio durato ben 10 ore. I detective decidono di fare a Nick il test del poligrafo. E Nick ahimè fallisce il test. I detective a questo punto lo sanno, ne sono sicuri. Hanno fatto centro. Presumono che Nick sia andato a casa di Ronda col fine di ucciderla per poi tornarsene a casa. Ok, tutto chiaro. Ma il movente? I detective ci riflettono un po' e poi concludono che, boh, non ne hanno idea. Nick era così tanto fuori a causa dell'alcol e delle sostanze che l'ha fatto e basta. Nick a questo punto dice agli investigatori come pensa che siano andate le cose quella sera. Non parla quindi di ricordi ma di ipotesi. È possibile dunque sia andato a casa di Ronda. Probabilmente ci ha provato con lei e la donna lo ha rifiutato, lo ha spinto via. Ha poi afferrato un coltello, si è avvicinata all'uomo e Nick a sua volta ha preso il coltello che aveva in mano Ronda colpendola più volte. Poi se n'è andato. Per la polizia di Patascala Nick ha confessato. Dunque viene arrestato e accusato di omicidio aggravato. È sicuramente lui il colpevole. I detective ovviamente sono fieri del loro operato. Un violento omicidio era avvenuto la domenica e il martedì mattina hanno già trovato il colpevole. La confessione di Nick sconvolge amici e familiari di Ronda. Lo zio Nick, membro fidato della famiglia e adorato da Amanda, ha commesso il peggiore dei tradimenti uccidendo senza pietà Ronda davanti a sua figlia. Nick Robinson resta in prigione in attesa del processo per omicidio di primo grado. Ma c'è un problema perché nonostante la sua confessione Nick non è sicuro di aver ucciso Ronda. Lui non ha ricordi di quella sera, ha bevuto tantissimo per tutto il giorno e ha anche fatto uso di sostanze. Dopo l'accusa Nick si ritrova da solo. Tutte le persone che lo conoscono lo additano come un assassino. David sostiene che secondo lui Nick ha pianificato di uccidere Ronda e dunque merita la pena di morte. L'unica persona che gli sta accanto è sua moglie Debbie, che assume per Nick un'avvocatessa di nome Diane Menasci. Diane non è convinta dell'innocenza di Nick, ma neanche della sua colpevolezza. Anche perché la sua confessione è abbastanza confusa. Siamo sicuri che le cose siano andate proprio così? Nick, di punto in bianco, ubriaco fradicio e pieno di sostanze in corpo, senza alcun motivo logico, si rega a casa di Ronda per ucciderla. Ok, ma ripeto, perché l'ha uccisa? Dov'è il movente? Diane quindi incontra Nick, il quale le dice che non capisce cosa stia succedendo. I detective lo ritengono colpevole, ma lui non si ricorda niente. Ma soprattutto non osa neanche pensare di uccidere qualcuno. Diane a questo punto capisce che la situazione non è affatto facile. Nick ha assunto alcol e sostanze per tutto il giorno, è confuso, non si ricorda nulla. Ma sente dentro di sé di non aver commesso alcun omicidio. Diane a questo punto dice a Nick che devono ripercorrere punto per punto tutti i suoi spostamenti avvenuti domenica 28 aprile 2002. Per non tralasciare nulla, Diane decide di assumere un detective privato, Matt Sauer. Matt Sauer, dopo aver letto il rapporto, è sicuro di una cosa. Non avrà difficoltà a ripercorrere quello che Nick sosteneva di aver fatto quel giorno. Solo dopo aver verificato tutti i suoi spostamenti avrebbero deciso come muoversi. Matt dunque si dirige al campo da golf dove Nick dice di essere stato per tutta la mattinata di domenica. E in effetti parla con delle persone che hanno scattato delle foto quella mattina. Si vede Nick alla guida di un golf car mentre beve. Dalle 13 alle 22 Nick rimane al Mary Melody. E le persone di quel bar si ricordano di lui perché quel giorno Nick indossava una maglietta un po' particolare. Su quella maglietta c'era stampato il logo della NASCAR con una frase alquanto stuzzicante, ossia tette ruote. Quel ragazzo con addosso quella maglietta era talmente particolare e simpatico che tutti lo ricordavano. Poi Matt si sposta al Fairview Inn, a Lancaster. Fa vedere la foto di Nick, chiede ai clienti abituali se per caso si ricordano di lui. Tutti anche in questo caso esclamano, sì era quello con la maglia con suo scritto tette ruote. Com'è possibile dimenticarselo? È arrivato verso le 22 e 30. È rimasto qui con noi, abbiamo riso, scherzato e bevuto più o meno fino a mezzanotte circa. Poi è andato a pagare il conto offrendoci anche qualche giro di bevute. Ed è uscito dal bar per mezzanotte e mezza circa. A quel punto Matt e Diane sanno molte più cose di quanto se ne ricordasse Nick. Se avessi voluto uccidere Ronda avrebbe dovuto farlo nel lasso di tempo in cui ha lasciato il Mary Melody per poi recarsi a Fairview Inn. Quello è un tragitto che dura circa mezz'ora. Quindi Nick avrebbe dovuto lasciare la strada per Patascala in direzione Lancaster. Ma non avrebbe avuto tempo a sufficienza per colpire Ronda e tornare al bar. Intanto Diane e Matt confermano la sua posizione grazie ai tabolati telefonici. Durante il viaggio tra il Mary Melody e il Fairview Inn, Nick ha parlato al cellulare con sua moglie. Che ovviamente l'ha rimproverato. Si era immediatamente resa conto dalla voce di suo marito che non era proprio in ottimo stato. È dunque impossibile in base alla foto della scena del crimine. E alla quantità di sangue sparso nella cucina di Ronda. Che non ci fosse alcuna traccia di sangue sull'assalitore. È in quel modo impossibile che dopo aver commesso un crimine tale, fosse andato a giocare a biliardo al Fairview Inn con gli stessi vestiti senza che nessuno notasse neanche una macchia di sangue. E infatti gli esami forensi sulla maglietta di Nick non hanno rilevato presenza di sangue. Ma ahimè il suo alibi è confermato da testimonianze parecchio deboli. In quanto nei bar le persone perdono la cognizione del tempo, specialmente se bevono. Per la difesa dunque l'unico modo per dimostrare l'innocenza di Nick è risolvere il crimine individuando il vero colpevole. E in effetti nei giorni successivi trovano la prima pista. Qualcuno sta usando le carte di credito di Ronda mentre Nick è in prigione. Inoltre gli esami sul sangue rinvenuto nel SUV di Nick confermano che si tratta del sangue di un animale che aveva cacciato. Nessun dettaglio della confessione di Nick corrisponde alle prove fisiche. A questo punto ecco che spunta fuori un altro nome perché la piccola Amanda dice qualcosa riguardo ad un uomo di nome Bob. I detective dunque si concentrano su Bob Sisko, il batterista della band di David, come persona informata sui fatti. Matt quindi va da Bob Sisko per sentire la sua versione dei fatti. E quest'ultimo rivela un'allarmante storia riguardo la notte dell'omicidio. Chris Williams, il chitarrista della band di David, si era allontanato dal gruppo da parecchio tempo. E proprio la sera del 28 aprile aveva bussato alla porta di casa di Bob. A Bob Sisko pare strano che Chris sia rispuntato dal nulla a caso una domenica sera. Infatti i membri della band hanno imparato a tenere d'occhio i comportamenti di Chris, il quale suonava nel gruppo con David e gli altri. Ma ahimè era entrato nel giro delle sostanze. Ad un certo punto la sua personalità aveva iniziato a mutare. E peraltro i membri del gruppo avevano scoperto che Chris aveva impegnato chitarra e amplificatore per procurarsi altra sostanza. La loro amicizia dunque ormai era ai ferri corti. Nonostante ciò a David e a Ronda piaceva a Chris. Era un ragazzo educato, molto gentile, che però ahimè era finito nel giro sbagliato. Il ritorno di Chris infatti nella band era durato davvero poco. In pochi mesi le sue cattive abitudini avevano di nuovo preso il sopravvento e nessuno del gruppo aveva più avuto contatti con lui. Chris infatti vive in una casa d'accoglienza, la Alvis House, per una violazione della libertà vigilata dopo aver trascorso tre anni in prigione per aggressione. Quindi è strano che Bob Sisko abbia visto Chris, a meno che quest'ultimo non sia scappato dalla casa di accoglienza. L'assassino ha rubato anche degli oggetti in casa di Ronda. Quindi l'avvocatessa di Nick, Diane, è convinta che Chris Williams sia un sospettato. A questo punto Diane e Matt chiedono aiuto all'FBI e Greg Costas si unisce all'indagine. Mentre cerca dei precedenti su Chris Williams scopre che quest'ultimo, un paio d'anni prima dell'omicidio, aveva fatto irruzione a casa di Ronda e di David per rubare delle chitarre di quest'ultimo. Siamo giunti ormai al gennaio del 2003 e Diane a questo punto va al distretto di polizia di Patascala per visionare le prove. I detective consegnano a Diane uno scatolone con dentro le prove avvolte in della carta per alimenti. L'avvocatessa nota immediatamente nello scatolone un oggetto più grosso degli altri avvolto nella carta. Quindi lo prende, lo apre e si trova davanti l'arma del delitto, ossia il coltello. Diane appena lo vede si allarma parecchio. Quel coltello è interamente coperto di sangue e capelli. A questo punto l'avvocatessa capisce che quelle prove non sono state assolutamente esaminate. Quando l'avvocatessa conferma il giudice sui mancati esami delle prove, quest'ultimo ordina immediatamente di far analizzare il coltello. E in effetti trovano due tipi di DNA su quel coltello. Uno è di Ronda, l'altro è di Chris. Il risultato di questo esame fa sì che Nick, dopo nove mesi, possa uscire di prigione, ma non è ancora stato scagionato. Infatti i risultati del DNA non dimostrano che Nick non sia coinvolto, bensì dimostrano che Chris Williams si trovava a casa di Ronda. Inoltre Chris ancora non è stato accusato di nulla. Questo vuol dire che l'accusa per omicidio aggravato pende ancora su Nick. Matt, mentre passa davanti agli uffici della motorizzazione, decide di fare un controllino. Alla targa dell'auto di Chris presa da una multa. È così che scopre che Chris ha venduto la macchina di suo padre, una Cadillac Blu del 1988, per 600 dollari solo il giorno dopo la scoperta del corpo di Ronda. Matt dunque rintraccia la donna che ha comprato l'auto. Si chiama Leticia e vive a Columbus. Quindi sia Matt che Diane vanno a trovarla. Matt chiede a Leticia cosa c'era in quella macchina quando l'aveva comprata. La donna spiega che il proprietario di quell'automobile era molto trasandato. Sembrava che avesse vissuto in quella macchina. Era sudicia, sporca, piena di incarte di cibo, di vestiti, di gioielli. C'era una busta con all'interno un documento d'identità con foto. E per finire, in quell'auto c'erano anche delle macchie di sangue evidenti. Matt mostra una foto di Ronda a Leticia, che la riconosce subito. Sì, il documento d'identità era di quella donna. L'auto di Chris dunque potrebbe essere un'importante fonte di prove e di oggetti rubati. Ma purtroppo Leticia, pur sapendo del caso, non si è fatta avanti perché non voleva essere coinvolta. Inoltre, quella macchina era così messa male che l'aveva anche portata a demolire. Ma, fortunatamente Leticia ha tenuto un paio di orecchini che ha trovato nella macchina che le sono sembrate di valore. Quegli orecchini erano proprio di Ronda. A questo punto, quei gioielli diventano essenziali per dimostrare l'innocenza di Nick. Arriviamo ad aprile del 2003, quando Diane chiama Kim, la sorella di Ronda, in centrale, per mostrarle gli orecchini che lei e Matt avevano recuperato da Leticia. Kim, ovviamente, quegli orecchini li riconosce subito. Infatti, quegli orecchini Ronda li aveva fatti fare da un anello che le aveva regalato proprio lei. I detective a questo punto chiedono a Diane, ma questi orecchini da dove sono spuntati fuori? Gli li ha dati Nick? Diane, con tutta tranquillità, risponde, No, una donna li ha trovati in un'auto che ha comprato da Christopher Williams, conosciuto anche come Chris Williams. I detective si guardano e rimangono straniti. Chris Williams? Diane continua dicendo ai detective Sì, sì, proprio Chris Williams. In questo momento è detenuto nella contea di Franklin, se volete andare ad interrogarlo. Gli investigatori scoprono dunque che Chris Williams, la notte dell'omicidio, era scappato dalla casa di accoglienza dove risiedeva. Esattamente una settimana dopo è stato arrestato a bordo di un veicolo rubato. Quando i detective vanno a interrogare Chris, l'uomo nega, nega tutto. Lui non ha ucciso proprio nessuno. Chris sostiene che domenica 28 aprile sapeva di essere nei guai con i suoi supervisori e che sarebbe comunque tornato in prigione. Dunque si era diretto a Columbus per comprare del crack e farne uso. Era passato successivamente a caso da Bob Sisko e poi aveva vagato senza meta in auto. Infine era andato a casa di Ronda, aveva suonato, ma nessuno aveva aperto la porta. Mentre stava andando via, aveva notato che l'auto di Ronda, parcheggiata nel vialetto, aveva il finestrino abbassato e la sua borsa era in macchina. Chris dunque l'aveva presa. Aveva guidato di nuovo fino a Columbus per comprare altra sostanza e farne uso. Ma mentre tornava da Columbus, aveva avuto dei sensi di colpa. Quindi era tornato a casa di Ronda per rimettere la borsa dove l'aveva trovata. A quel punto aveva sentito un urla ghiacciante e si era nascosto dietro la macchina di Ronda vedendo Nick Robinson uscire dalla casa. Chris era dunque entrato in casa chiamando Ronda. Aveva anche trovato il suo corpo in cucina. A fianco a lei c'era l'arma del delitto. Aveva dunque preso in mano il coltello. Poi l'aveva lasciato cadere a terra ed era fuggito. Nella versione di Chris però ci sono almeno tre cose che non tornano. Ma anche quattro direi. Dal suo racconto le impronte della suola delle scarpe insanguinate sul pavimento della cucina sarebbero dovute essere di due tipi diversi, non di uno solo. Sostiene di aver afferrato l'arma del delitto per poi farla cadere di nuovo. Cosa impossibile. Inizialmente neanche i detective l'avevano trovata quell'arma. Solo quando è giunto il medico legale sul posto si sono accorti che sotto il corpo della vittima c'era quel coltello. E peraltro la borsa di Ronda e i detective non l'hanno trovata nella sua macchina. Ma in casa il suo contenuto era completamente rovesciato sul bancone della cucina. Per il procuratore distrettuale fortunatamente le prove fisiche hanno un peso maggiore rispetto alla confessione di Nick. È così che si convince che Chris Williams sia l'unico colpevole. Chris Williams dunque viene accusato di omicidio. E tutte le accuse contro Nick Robinson fortunatamente vengono ritirate. Purtroppo per Nick tornare alla normalità è impossibile. Sua moglie Debbie gli è sempre rimasta vicina ma hanno perso tutto. Hanno dovuto vendere tre automobili. Nick ha perso il lavoro. Debbie sua moglie ha dovuto mettere all'asta tutti i loro beni tranne un letto, una cassettiera, una tv e un divano. Quando Nick è tornato a casa quindi si è ritrovato in una casa quasi totalmente senza mobili. Ha di conseguenza deciso di dare una bella raddrizzata alla sua vita. Ha smesso di bere, di assumere sostanze e ha trovato un lavoro stabile. Una volta processato Chris Williams viene condannata a 48 anni di prigione. Mi dispiace fare una conclusione così dura ma è chiaro che questi detective abbiano indagato con i piedi. Se l'avvocatessa di Nick non si fosse presa la briga di andare a controllare le prove, quell'uomo probabilmente sarebbe rimasto in carcere. Per cosa poi? Con che prove? Con una confessione storta e un test del poligrafo fallito dopo dieci ore in interrotte di interrogatorio? Per di più, lo sappiamo tutti ormai, il test del poligrafo non è che sia così sicuro. Infatti molti serial sono riusciti a risultare innocenti nonostante avessero commesso più e più delitti. È davvero triste pensare che per un errore giudiziario un uomo non solo ha passato nove mesi in carcere da innocente, ma ha anche perso quasi tutto. Nick ha dovuto rincominciare da capo una nuova vita. E per di più, in molti hanno continuato a credere per anni che il colpevole in realtà fosse lui. Perché? Beh, per il test del poligrafo che aveva fallito. Tutto ciò è terribile, oltre al danno la beffa. Sei innocente, ti fai nove mesi di carcere, ne esci da innocente perdendo peraltro la maggior parte dei tuoi beni, e le persone ancora ti vedono come un potenziale assassino solo e soltanto perché hai fallito il test del poligrafo. Che amarezza. Fortunatamente Nick ha intentato una causa da 3 milioni di dollari contro il dipartimento di polizia. La causa è stata risolta in via extra giudiziale. Io spero con tutto il cuore che con quei soldi Nick sia riuscito a ricostruirsi una vita serena. Spero sia riuscito a circondarsi di amici onesti e sinceri. Una cosa è certa, sua moglie Debbie non l'ha mai lasciato. E l'ha aiutato tantissimo nei momenti peggiori, standogli accanto e ricordandogli che lui non è colpevole. Anche lui in questa storia è una vittima. Detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Conoscevate questo caso? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Prendetevi cura di voi. Fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.